Allora a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Rigo e oggi siamo finalmente tornati su una serie molto molto carina che è la Minecraft Techit Ita. Allora, dallo scorso episodio sono cambiate molte cose, questa qui intanto ragazzi è la quinta prova di registrazione che faccio di questo episodio perché ovviamente io mentre registro devo cambiare tutti i programmi e quindi devo imparare anche ad usare, per questo che non carico video da un po'. Allora, dallo scorso episodio noi abbiamo cambiato casa da sta baracca qui, minchia avevo messo anche la gravel sopra, vi ricordate che avevamo scavato qua. Mi sono dato da fare, dato che è da più di un mese che non porto stasera, ma adesso ragazzi uscirà un episodio a settimana di questa serie qui, dato che mi voglio soffermare su questa qui e le altre serie che sto facendo io magari non usciranno un episodio ogni tanto, ma comunque diventerà la serie principale che farò io. Quindi, come vi stavo dicendo, mi sono trasferito in questo vulcano bellissimo e oggi vi faccio vedere cosa ho fatto e andiamo a fare la prima fonte di corrente. Allora, dallo scorso episodio qui ho portato le mucche, l'erba l'ho portata tramite quel coso lì, cioè tramite quella montagna lì non vi sto neanche a dire quanto tempo ci ho messo. Vabbè, intanto uccidiamone due o tre, tanto per averle di stack. Allora, qua poi in mezzo ho messo una feed station, praticamente la feed station fa accoppiare le mucche mettendoci dentro il grano, quindi se c'è dentro il grano le accoppia senza che noi facciamo niente. Allora, poi qua ho piantato gli alberi della rubber, in modo da avere sempre gomma fresca e incredibile da cuocere. E mentre i grandi cambiamenti, a parte la farm di grano che ho fatto qua, vabbè, semplice farm di grano per far accoppiare quelle bestie là. E qua dentro ci sono veramente, non dei cambiamenti, ma ovviamente voi non avete ancora visto un cazzo. Allora, qua abbiamo tre fornaci, la crafting e il mio letto. Poi, mentre qua sotto c'è la miniera. In questa miniera, veramente, ci ho passato tanto, 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 tantissimo tempo. In preparazione a questo episodio, che praticamente andrà a parlare delle prime fonti di corrente che si possono avere nella Techit. Stiamo parlando della corrente che si fa col generator, che è un solito, è un semplice generatore che va a combustione, quindi carbone, legna e cagate varie. Ci sono due metodi per fare questo generatore. Uno è questo qua, che veramente ci spendiamo tanto ferro. Mentre questo qui è un po' più semplice. Allora, iniziamo da fare una cosa, forse penso, più complicata, che è un machine block. Un machine block, ovvero, è una fornace, diciamo, fatta con il refined iron, che mi sono già preparato. Il refined iron, che cos'è? È un ferro speciale che noi andiamo a cuocere, a ricuocere nella fornace. Quindi, se noi mettiamo un pezzo di ferro qua dentro, nella fornace con il carbone, ci dà il refined iron, come possiamo vedere ora. Eccolo qua, il refined iron. Intanto, adesso metto qua a cuocere le 5 pistacche che ho messo. Quindi, poi, oltre al machine block, ci serve una rebattery e una fornace. Facciamo la cosa più semplice, che è la fornace. Quindi abbiamo sia il machine block che la fornace. E ora andiamo a craftare la rebattery. Rebattery che è molto complicata, soprattutto se siamo all'inizio, dato che bisognerà avere la tin e la redstone, che io, ovviamente, scavando per 2-3 ore, ho trovato anche in abbondanza. E un copper cable che è molto facile da craftare. Copper cable che ho già, però, ne avevo già craftati un paio per fare questo, diciamo, spazio per i macchinari. Quindi, andiamo a craftarci il coso l'arebattery. Quindi, la tin l'ho qua. E, ecco, sbagliato. Ovviamente ci andava la tin di fianco. E, mentre ai lati... Eh, sì, va un curo, vabbè, avete capito. E adesso, dopo tutta questa grandissima fatica che ci ho messo, andiamo a craftare il nostro primo generatore. Alleluia, l'ho craftato, finalmente, sto benedetto generatore. E lo collochiamo qua sotto un copper cable. Copper cable che sono dei cavi normalissimi di copper che ci andavano a trasmettere la corrente ai primi macchinari. Ma noi, per ora, ce ne frega un cazzo. Allora, come primo macchinario, cioè, ovviamente, c'è la fornace. Intanto, andiamo a dormire perché fuori c'è notte. L'ho visto dalla minimappa. Sono troppo bravo. Incredibile. Minchia, sta nevicando. Sta nevicando. Sta nevicando. Sta nevicando. Che bello. Ad agosto nevicando su Minecraft. Ma Minecraft è strano. Quindi, adesso mi scrivono anche su WhatsApp. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Mi scrivono su WhatsApp. Ma per ora non cago nessuno. Quindi, adesso, andiamo a craftare il primo macchinario che ci servirà. Che è l'Electronic Furnace. Intanto, facciamo doppio click. Come cazzo ho fatto? Boh, chi se ne frega. All'Electronic Furnace che si crafta con un Electronic Circuit. Due Redstone e un Iron Furnace. L'Iron Furnace che andiamo a craftare in questa maniera qua. Un Iron Furnace, ovviamente. Un attimo. Ok. Andiamo a craftare un Iron Furnace che, ovviamente, è una fornace fatta di ferro. Quindi, cosa più utile? Cioè, come si farà una fornace di ferro? Quindi, è molto facile. Ok, sono riuscito a risolvere questo bug di merda. Quindi, abbiamo craftato l'Iron Furnace. Quindi, poi, due pezzi di Redstone e l'Electronic Circuit. Quindi, ci servono due Redstone, una Refined Iron e sei Copper Cable. Il Copper Cable, che, non so se avete visto prima, da quel breve crafting video, ma si craftano in questa maniera. Molto, molto easy. E meno male che è easy, se no, mi sparavo in bocca. Quindi, mettiamo queste cose qua. Un coso qui. E voilà! Intanto, le spiegazioni incredibili. Mettete un coso qua, un coso qua, un coso là. Ed ecco questa cosa incredibile. Viva Rigo! E le sue spiegazioni mitologiche della tecnologia minecraftiana. Ma vabbè. E, con molta facilità, diciamo, sì, con molta complessitudine di fatti e non fatti, cazzate varie che devo sparare, abbiamo craftato anche il nostro primo metodo. Cioè, il nostro primo macchinario. Adesso, ovviamente, dato che io sono un pirla, ho finito il carbone. Quindi, come faccio a fare una dimostrazione dell'effettiva potenza di un macchinario senza il carbone? Non lo so, neanche io. Quindi, metto in pausa il video e ci rivediamo qui quando finalmente sarò riuscito a trovare del carbone. Anzi, non serve neanche perché l'ho trovato che culo, ne prendo proprio giusto due o tre pezzi per far vedere che comunque la corrente viene fuori molto velocemente. Allora, ok, abbiamo preso 13 di carbone, vanno molto molto bene per questo piccolo tutorial sul creare il primo fonte di macchineria, macchinaggi, macchinaggi. Quindi, incredibile, sulla Minecraft Techit. Adesso sto facendo un po' ironicamente, se non sarà capito, ma immagino che sarà capito. Ma vabbè, comunque. Adesso, per produrre corrente, basterà solamente mettere qua il coal, ovviamente, nello spazio giusto. E la corrente inizierà ad accumularsi qui e ad arrivare ai nostri macchinari. E quindi a noi cosa basterà fare? Mettere qua dentro i nostri cosi, i nostri materiali. E finalmente avremo fatto un Electronic Four Nails che funziona. E finalmente eviteremo di sputtanare un po' di meno, un po' di carbone e meno, ma intanto poi lo sputtaneremo comunque per il generatore. Ma questi non sono fatti che ci importano veramente a noi. Quindi, io con il coro delle mucche saltellanti, vi auguro, cioè, mi auguro a me che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo capire con un commento qua sotto, con un mi piace. E se vi è piaciuto, ovviamente, e se vi piace il canale, iscrivendovi. Io vi ricordo, anzi ve lo dico adesso, che ai 6 like, dico 6, non 5, ma 6. Adesso alzo le mie pretese, dato che siamo arrivati a 210 iscritti, grazie mille ragazzi. Quindi, niente, un traguardo incredibile, cioè, incredibile per noi, ovviamente. Poi andando a guardare youtuber più grandi, che hanno 600.000 iscritti, noi siamo delle merde, ma vabbè. Chi se ne frega, noi siamo incredibili. Quindi ragazzi, 6 like per il prossimo episodio, qua da Rigotutto, bella ragazzi.